Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, tanto per cambiare, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto della mia libreria. Allora, si torna a parlare di cose che volano, si tornano a parlare di... torniamo a parlare di aerei, torniamo a parlare di una pietra miliare assolutamente indiscutibile dell'aviazione. Parliamo di un aereo che è realmente uno dei grandi protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, perché parliamo di questo, parliamo dello Junkers U-88, der Schnellbomber, il bombardiere veloce, der Wunderbomber, il bombardiere meraviglia, indubbiamente uno degli aerei più caratteristici della Seconda Guerra Mondiale, uno dei simboli della Luftwaffe, uno degli aerei più famosi, più celebrati, più noti della Seconda Guerra Mondiale. La fonte è il numero 43 di agosto 2005 di Aerei nella storia, un lungo ed esaustivo articolo di Nico Sgarlato, uno dei più, diciamo, uno dei più noti esperti di aviazione italiana, di aviazioni italiane per quello che riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Lo Junkers 88, questo è un altro esemplare, eccolo qui, lo Junkers 88, uno dei simboli della Luftwaffe, una delle armi che portarono la Germania di Hitler a un passo dalla vittoria nel 39-41. Un aereo eccezionale, dalle straordinarie prestazioni, un aereo modernissimo per l'epoca della sua progettazione. Nacque, mettiamola così, secondo quello che ci dice Nico Sgarlato, Allora, negli anni immediatamente precedenti l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, gli organi tecnici della Luftwaffe richiesero bimotori da combattimento con diverse specializzazioni di impiego. Quello prodotto nel maggior numero di esemplari, attorno ai 15.000, e probabilmente anche quello più versatile, più adattabile, fu lo Junkers 88, che, nato in risposta al requisito per un bombardiere veloce, fu poi impiegato nelle più svariate missioni, fu usato come bombardiere, fu usato come ricognitore, fu usato come caccia notturno, fu usato anche come caccia pesante diurno. Insomma, un aereo estremamente versatile, un aereo che ha veramente fatto, che ha veramente, come dire, fatto la storia dell'aviazione. Un aereo che per i suoi tempi era indubbiamente modernissimo, cioè un aereo che fu indubbiamente il più riuscito dei bimotori tedeschi, dei bombardieri bimotori tedeschi. La sua origine risale alla metà circa degli anni 30. Praticamente nel 1934 la Luftwaffe richiese un caccia pesante, specifica per la quale il vincitore fu il Meshersmith 110. Nel 1935 la Luftwaffe diresse la sua attenzione verso un ricognitore strategico e un bombardiere veloce. Per il ricognitore strategico non ci fu un seguito perché il BF 161, un derivato del Meshersmith 110, non fu adottato. Per la specifica del bombardiere veloce furono in competizione la Focke-Wulf che secondo alcune fonti declinò l'offerta, secondo altre propose una variante del Focke-Wulf 57. Ci furono poi una proposta della Henshell, una proposta della Meshersmith col BF 162 derivato dal 161, derivato a sua volta dal 110 e la Junkers con il progetto U85 e U88. Allora, già sulla carta il progetto dello Junkers 88 con la designazione di fabbrica di EF 59 opera dell'ingegner Zindel con la collaborazione di Evers e Gassner appariva superiore e più moderno e fu sviluppato nel tempo record di 340 giorni volando il 21 dicembre 1936 pilotato dal collaudatore Kinderman con il nome di Junkers 88 V1 e questo è il tre viste dello Junkers 88 V1 eccolo qua questo era il prototipo come vedete per il 1936 era un aereo decisamente d'avanguardia era un aereo decisamente molto 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 avanti come disegno e come struttura praticamente entrò in servizio cioè come dire entrò in servizio quasi subito nonostante la distruzione nel 1937 di uno dei prototipi cioè praticamente il 10 aprile 1937 il primo prototipo cioè questo il V1 andò distrutto in un incidente aereo ma era un aereo talmente tanto promettente talmente tanto come dire ben riuscito che si decise di non poterne subito fare a meno e dello Junkers 88 oggettivamente la Luftwaffe non ne poté mai fare a meno perché era mettiamola così un aereo talmente tanto ben riuscito talmente tanto efficiente talmente tanto eccezionale da uccidere in culla i suoi presunti successori di fatti se ben vi ricordate quando in un video ho parlato della cosiddetta specifica Bomber B la specifica che avrebbe dovuto sostituire i bombardieri i bombardieri bimotori di prima generazione i bombardieri bimotori tedeschi di prima generazione che fu un fallimento se vi ricordate cioè praticamente gli aerei che avrebbero dovuto sostituire lo Junkers 88 furono tutti a dir poco fallimentari e lo stesso Junkers lo stesso Junkers 288 fu un aereo a dir poco pessimo anzi veramente veramente orribile detta proprio come però lo Junkers 88 con la sua derivazione 188 continuò a combattere per tutta la guerra e fu costruito praticamente quasi fino all'ultimo giorno di guerra un aereo estremamente versatile che ebbe diverse funzioni assaltatore perché fu dotato anche di un cannone da 75 mm in funzione anticarro come ricognitore le sue versioni da ricognizione erano molto efficienti e molto ben riuscite come caccia notturno i suoi le sue versioni come caccia notturno ad esempio la G1 quella che appare in questo spaccato dal quarto volume di Aircraft ecco qui la G1 era una eccellente era un'eccellente piattaforma per la caccia notturna un aereo lo Junkers 88 che ha veramente fatto la storia dell'aviazione un aereo capostipite perché è stato un punto di riferimento perché prendiamo per esempio aerei insomma il De Aviland Moschito la meraviglia di legno era più o meno faceva era più o meno un aereo che faceva le stesse cose nato per soddisfare le stesse caratteristiche che soddisfaceva lo Junkers 88 e per dire anche aerei come per esempio il Douglas Boston il B-25 Mitchell il B-26 o A-26 Invader che dir si voglia erano tutti aerei nati nati dall'idea di base che veniva dallo Junkers 88 ovvero sia bimotori potenti veloci versatili in grado di effettuare diversi tipi di missione ripeto attacco al suolo bombardamento di supporto bombardamento tattico bombardamento di supporto alle truppe avanzanti ricognizione caccia notturna insomma un aereo lo Junkers 88 che riuscì molto bene in tutte le cose che faceva sembra strano di solito si dice che gli aerei tuttofare solitamente gli aerei tuttofare non funzionano mai molto bene invece lo Junkers 88 nato come bombardiere veloce trasformatosi nel corso degli anni ripeto in tutta una serie di versioni con tutta una serie di versioni in un aereo multiruolo e tuttofare fu sempre un eccezionale aereo sempre c'erano per esempio adesso vi faccio vedere come sempre ci sono come dire diverse versioni l'utilizzo dello Junkers 88 fu come dire sempre estremamente estremamente variegato cioè per esempio lo Junkers 88 P1 era una era una versione anti-carro che montava un pack 40 un pezzo da 75 mm questo è il profilo del P1 eccolo qua eccolo qui questo è il profilo del P1 e sotto c'è il P4 cioè un'arma un bombardiere insomma siamo sinceri un aereo nato a metà degli anni 30 concepito a metà degli anni 30 che vide la fine della sua carriera nel 1945 vide la fine della sua produzione nel 1945 e questo in un periodo in cui il progresso aeronautico era realmente qualche cosa di tumultuoso e velocissimo oggettivamente i tedeschi non furono in grado di fare di meglio dello Junkers 88 il suo successore allora la versione migliorata Junkers 188 manteneva le buone caratteristiche di volo del capostipite ma aveva diciamo qualche problema nell'inviluppo di volo il successore vero e proprio dello Junkers 88 avrebbe dovuto essere lo Junkers 288 ma si rivelò un aereo fallimentare a un certo punto la Luftwaffe rinunciò a sostituire i vecchi tipi con dei nuovi con dei nuovi bombardieri bimotori perché semplicemente non c'erano più le risorse e le pretese erano decisamente eccessive e poi diciamoci anche la verità perché sforzarsi a progettare qualche cosa di nuovo quando c'è lo Junkers 88 che funziona tanto bene e che riesce a fare un po' tutto un catch ripeto un aereo eccezionale eccezionale un aereo dalle capacità e dalla versatilità ineguagliabili perché credo che ci siano pochi aerei nella storia che siano riusciti a fare quello che ha fatto lo Junkers 88 facendolo bene ecco questo è anche un altro esemplare da caccia notturno della versione G insomma signori lo Junkers 88 un aereo meraviglioso che si meritò appieno il suo soprannome di Wunderbomber di Bombardiere Meraviglia un aereo che era in grado di fare praticamente tutto fallendo ahimè solo nell'unico ruolo in cui non era dato quello di bombardiere strategico di fatti durante la battaglia d'inghilterra il pur eccezionale Junkers 88 non riuscì a come dire svolgere il ruolo di bombardiere strategico perché ahimè non era adatto quando fu di nuovo utilizzato come bombardiere contro l'inghilterra col cosiddetto baby blitz del 43 44 ahimè anche lì non ci fu nulla da fare non era un aereo adatto ripeto a fare il bombardiere strategico troppo piccolo scarsa autonomia scarso carico di bombe per essere efficaci come bombardiere strategico come bombardiere medio come bombardiere tattico come aereo d'attacco ricognitore e cazzo notturno fu senza dubbio eccezionale sicuramente insomma il simbolo della un simbolo della potenza della Luftwaffe nei primi anni di guerra lo Junkers 88 Der Wunderbomber il bombardiere meraviglia un aereo eccezionale senza se e senza ma un aereo tra i più riusciti della storia dell'aviazione un aereo che mettiamola così era talmente riuscito talmente eccezionale talmente ben fatto talmente nato bene che uccise in culla i suoi presunti successori tutto qua quindi cari signori come sempre attendo le vostre considerazioni sullo Junkers 88 nei commenti come sempre aspetto i vostri pareri come sempre cari signori vi do la rivederci al mio prossimo video e come sempre vi dico ciao ciao ciao